Sindaco, l'obiettivo del suo mandato era rilanciare il MAGA questa sera con il sostegno degli imprenditori. Si dimostra ancora una volta che il MAGA può essere arte ma anche sostenibilità economica. Sì, io devo ringraziare Confindustria, Presidente Grassi, ma tutto il direttivo, la direzione, perché hanno davvero sposato la causa del MAGA, hanno intravisto le potenzialità e capito che anche l'imprenditoria ha bisogno di investire, investire su cultura e su spazi come questo. Quindi questa sera siamo qui con un centinaio di imprenditori, con Confindustria, per continuare il Patto per le Arti, un'iniziativa importante che fa in modo che tante aziende sostengano questo museo, contribuendo quindi a fare tante belle iniziative e riducendo quello che è il costo della struttura per i comuni di Gallarate. Quindi sono davvero contento del fatto che sia tanto entusiasmo intorno al nostro polo museale.